Dopo Gela, anche a Niscemi è stata istituita una stanza tutta per sé. L'inaugurazione si svolta oggi nella caserma dei Carabinieri in Piazza Martiri di Nasseria. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto promosso dal Sodoptimist Club di Niscemi dopo la stipula di un protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sottoscritto dal Sodoptimist Club nazionale. L'aula servirà per accogliere in un ambiente idoneo le donne vittime di violenza fisiche e psicologiche che trovano il coraggio di denunciare. Un arredamento sobrio ma confortevole nella scelta di mobili, colori, illuminazione e complementi di arredo. Io ritengo che sia veramente importante che tutte le donne, anche in una città come Niscemi, possano avere la possibilità di ricevere l'adeguata accoglienza quando devono appunto denunciare una violenza, la qualunque cosa che li traumatizzi. Per me è stato ed è un onore che questo si sia potuto realizzare. Si sono mai verificate delle situazioni in cui delle donne si sono avvicinate a voi perché hanno vissuto delle esperienze difficili in famiglia? Io insegno al liceo e proprio quest'anno, verso la fine dell'anno scolastico, io avevo intuito che c'era qualcosa che non andava in una mia alunna e poi parlandone ho scoperto che sia la madre che lei subivano delle violenze da parte del genitore e quindi io ho cercato, ancora la stanza non era pronta, però io già ho cercato di fare qualche cosa. Questo progetto nasce da un'idea del presidente del club di Torino, diventata poi presidente nazionale, e che vuole dare una possibilità alle donne che purtroppo sono vittime di violenza, di avere un ambiente accogliente, sobrio, è chiaro che la sobrietà o la confortevolezza di una stanza non leniscono il donore, però possono rendere meno traumatico l'evento denuncia. Questo progetto ha avuto veramente un successo insperato e inaspettato, se si pensa che in poco più di sette mesi ne sono state realizzate circa una ventina e con un pizzico di orgoglio da vicepresidente, ma da vicepresidente siciliana, devo dire che il contributo maggiore è stato dato proprio dalla mia regione, dalla Sicilia, ne sono state realizzate ben sei e ce ne sono altre ancora in itinere e in corso di programmazione, quindi davvero un successo con un'unica speranza che queste stanze siano non utilizzate, ma quantomeno utilizzate il meno possibile.